Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Quando uscirà questo video probabilmente saremo ancora alla E-seria team, speriamo. Quindi mi raccomando, se non avete niente a fare, veniteci a tifare. Oggi non ci saranno ospiti, ma votate nei commenti chi vorreste fosse il prossimo ospite. Oggi sono qua ovviamente per fare le vostre squadre. Come al solito domani le farò su Instagram, quindi cercatemi, cercatemi con la mira, taggatemi nella storia con le solite regole, ovvero taggatemi nella storia pubblica con la vostra squadra e il budget. E io ne condividerò una decina, quindicina. Domani sarò live anche sulla piattaforma viola, dove ricordo che se vi abbonate è garantito che vi aiuto con le squadre. Domani le farò, penso, dalle 12.30-13 fino alle 15.15.30, o forse anche alla sera. Mandatemi, mi raccomando, poi qua sotto nei commenti le squadre, se volete essere aiutati nel prossimo episodio. Mettete like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. E adesso andiamo a vedere prima a Guero gli altri item che sono usciti in questi giorni. Quick review veloce per darvi un'infarinatura pre-provati. E poi appena li provo vi do altri input in live. Quindi andiamo a vedere quali sono. Partiamo da alcuna Guero, versione che costa 800.000 crediti, 91 di accelerazione e 90 velocità scatto. È un SBC, quindi ovviamente potete abbattere un po' il prezzo. 98 in finalizzazione con 98 in posizionamento e 93 in potenza tiro. I tiri veramente sembrano essere incredibili. Passaggio sembra essere fenomenale nei passaggi corti. Il cross non è incredibile, comunque ha un ottimo effetto che è importante piccato in questo caso per il tiro a giro. Perché non avendo tanti passaggi a lungo, pur avendo un bel po' di visione, non mi aspetto a riscaffare dei filtranti incredibili. D'altro lato a livello di dribbling non il più agile del mondo, però ricordo che c'è Body the Bionic, quindi con dribbling, controller, attività, equilibrio e composure che ha. Dovrebbe comunque essere abbastanza mobile. Non magari il più agile del mondo, non avrà l'agilità alla Beye Del che si gira così, ma resterà comunque un giocatore secondo me sufficientemente leggero. Non leggerissimo, però insomma pienamente utilizzabile nei movimenti nello stretto. Poi comunque Forza Fisica sembra essere ottima, sembra anche avere un buon stacco di testa. Nel complesso però rimane un 4-4 che ha una settimana dell'inizio dei Tots, costa 800.000 crediti ed è non scambiabile. Quindi personalmente non credo neanche gli darò un try perché io mi aspetto che la carta sia forte. Però è un 4-4 che costa 800.000 crediti, comunque ha 87 di agilità, non ha le 5 stelle skill o le 5 di piedebole. Di conseguenza per le carte che girano oggi e per le carte che gireranno fra una settimana lasciare abbastanza perdere. Mi sembra un pochino troppo alto il prezzo, la carta è indubbiamente fortissima, quindi se volete fare ci sta perché comunque è molto forte. Però personalmente non la farò e non la consiglio particolarmente. Poi abbiamo Costi, c'è che costa 60.000 crediti e 750, quindi è un prezzo sicuramente alla portata, corre tanto. Ma poi per il resto non fa molto altro, nel senso che i passaggi sono buoni, sicuramente fisicamente è piazzato, sicuramente ha un buon dribbling, ha un buon controllo, ma pochissima agilità, non granché di equilibrio, average, poca finalizzazione. Poi 3 di skill e 2 di piede debole, va bene che costa poco, ma questo no, ve prego. Poi abbiamo Niederlechner, vi sfido a leggere in maniera corretta. Vabbè, comunque, ok, è un obiettivo league player questo, tedesco, Bundesliga, non ha accelerazione ma ha un attività a scatto, la finalizzazione è ottima, un buon posizionamento, buonissimo potenza tiro, fenomenale direi. Ottimo, tiro al volo, tiro in stanza un po' così così, passaggi lunghi, niente di che, anzi direi peggio del peggio, poi effetto terribile, quindi ti tira a giro, niente di che. Sa passare solo il pallone nel corto, poi visione normale, quindi non sa neanche crossare. Poi a livello di dribbling, l'agilità non è malissimo, però c'ha high and average, quindi 88 con high and average diventa un po' difficile. L'equilibrio, diciamo che questo giocatore un po' sulla carta è forte fisicamente e quindi unendo la sua altezza, la sua forza fisica, il suo body type, le sue statistiche di dribbling e la sua accelerazione mi danno parecchio l'idea che sia un giocatore non leggero, abbastanza macchinoso. Poi ha 3 stelle skill, non ha tanto di che di accelerazione, quindi se volete sbloccarlo perché è gratuito ci può stare, ma questo per me non può circolare in nessuna posizione perché non può fare nell'esterno perché non sa fare i passaggi, ne può fare la punta perché è troppo prevedibile e macchinoso, al trequartista manco meno, quindi questo sta bene che da nessuna parte. Allora, qua abbiamo un milione e due di budget, vuole mantenere Baggio perché lo utilizza come trequartista, abbiamo un paio di Upamekaz, Rabiot e Mendy. Un milione e due da investire, un milione da due, so parlare oggi, un milione e due da decidere dove investire insomma. Ci sono varie opzioni, allora innanzitutto la centrocampo di fianco a Rabiot abbiamo sicuramente bisogno di un mediano puro, ce ne sono vari, secondo che comunque puoi mettere anche uno scammavinga, però io personalmente in questo caso specifico partirà inserendo Cristiano Ronaldo perché comunque diventa anche abbastanza semplice da inserire, chiude l'ibridazione con il Rabiot e ci permette di avere più libertà nelle altre posizioni. Sopra inserirei Renato Sanchez, ovviamente sarebbe spettacolare se tu avessi fatto questo Renato perché in realtà fai ancora in tempo, è ancora pochi giorni, pensavo fosse scaduto, quindi personalmente punterai a inserire lui. Inserirei il buon Diatta che è veramente un fenomeno e di qua vorrei Neymar personalmente, ovviamente verrebbe tutto più semplice inserendo Bamba e considerando che il fatto che tu hai Baggio potrebbe comunque aver senso inserire Bamba perché in ogni caso è un esterno e di conseguenza viene più semplice. E di qua mi chiuderei la rosa magari con Teo Hernandez 86, qua sarebbe bello mettere Babu, ma andrebbe bene anche Sambia, quindi forse vabbè metterei o Mandanda o Liori, giusto per se ce l'hai Mandanda benvenga. Ovviamente siamo clamorosamente fuori di budget perché ovviamente mettere sia Cristiano che Renato che mettere Bamba e tutte queste robe ci hanno fatto uscire di 400.000 crediti, però c'è stato di mezzo un giovedì, quindi suppongo che almeno altri 100.000 crediti li hai, quindi almeno 1.300.000 li avrai, avrai giocato 1.350.000, di conseguenza se devi risparmiare metti magari Bamba 84, metti Teo 85 e per adesso te la cavi. In alternativa aspetta magari di permetterteli, però io credo che comunque facendo a Renato se hai un po' di roba nel club sicuramente risparmi e a quel punto te la cavi comunque alla grande. Secondo me così viene una bellissima rosa, in game ricordati di switchare Mendy con Teo Hernandez. Allora, 4-4-2 consigli futuri. Abbiamo Neuer in Porta, Kerrer, Boateng, Bender, Goretzka, Baggio, Palacio, Dybala, Vidal, Neres e Kurzawa. Sicuramente è una bella rosa, indubbiamente però vedo alcune cose che non mi piacciono, perché Baggio e Dybala sono trequartisti e tu hai Palacio che può fare punta o esterno e Neres che è una punta o esterno o anche trequartista. Bender tanta roba, Boateng, Kerrer, Kuzawa, Neuer. Allora, qua si parla di futuro, di conseguenza non è che posso inserirti in mille giocatori e variarti la rosa in maniera strana. Diciamo che qua nel futuro hai bisogno di una punta vera o anche se vuoi mantenere Palacio ci può anche stare, ma io mi renderei una punta vera. Se ho un'alternativa comunque, se vuoi mantenere Palacio come punta, non so, magari insieme a Baggio, switcherai Palacio con Vidal e al posto di Dybala metterei Perisic, che comunque come esterno di un 4-4-2 ti dà anche una mano difensiva e sicuramente rende un po' meglio. D'altro lato, Kuzawa sarebbe bello inserirla un bel zambrotta, così diamo anche intesa Neres e potremmo anche dare un pochino di cambiamento a questa rosa. Così come in realtà nel tempo anche Boateng, secondo me, incomincia ad avere le sue pecche, però per andare a cambiare Boateng è un filo più... cioè bisognerebbe inserire qualche tipo di difensore differente. Altra cosa che comunque nel tempo farei è Cristiano Ronaldo Kulusevski, che ovviamente lo so che è Palacio e tutta sta roba non scambiabile, però appunto è tutto non scambiabile, quindi nel tempo cercherai di inserire Kulusevski come esterno sinistro-destro, lo switcherai in realtà con Neres e poi in game lo metterai a sinistra. Baggio può fare il suo trequartista comunque, cioè in realtà dei fatti è che io ti dico, la cosa migliore qua è giocare con il 4-2-2-2 più che il 4-4-2, perché Baggio si esprime meglio come trequartista, Neres lo potresti far giocare davanti intanto con Palacio, in futuro con CR7, e poi come al tequartista Di Bala per ora può reggere, e lì magari aspetti di farti Kulusevski quando metti anche CR7. Valuta un po' te, però io cercherei di lavorare su quel lato, e poi nel tempo magari un bel terzinaccio icona per Kurzawa, però parliamo di futuro, e tra poco ci sono i tots, di conseguenza riusciranno un sacco di terzini difensori sbroccati, quindi da quel lato in particolare aspetterei. 100.000 crediti di budget, abbiamo Reola, Laporte, Semedo, Varane, Pogba, Fernandez, Zaha, Adama, Rashford, Sanchez, Hernandez, allora no. 100k ok, ma qua c'è tanto da cambiare. Sicuramente a questo punto il gioco è Laporte, ma neanche al primo mese può giocare. Cioè questo penso che sia un dato assolutamente di fatto, e quindi quello, prima cosa. Poi sposterei un Varane di lì, e metterei Mendy base, che switch in game con Teo Hernandez, così giochi con Teo difensore centrale, e Mendy terzino a sinistro. Perché si fa questo? Perché Teo Hernandez, in quella versione in particolare, di fianco a Varane in difesa, comporta un giocatore che ti protegge molto bene i filtranti, ma comunque forte fisicamente e difende bene. Mendy lo mette a sinistra, per il semplice fatto che in questo modo rende comunque per le sue peculiarità, e nel contempo Varane fa il difensore tipico, video di giocatore che avevi, io penso che tu giochi con il 4-2-3-1, utilizzando Bruno Fernandes come trequartista. Ho fatto un po' di cambiamenti, che secondo me dovrebbero renderti la squadra più competitiva. Sono un po' più di 100k, non tanto, però dovresti riuscire a cavartela in poco tempo. Ti ho messo Mendy, versione base, che switchi con Teo in game, in modo che utilizzi Mendy terzino a sinistro, e Teo in difesa con Varane, con Sambia terzino. Sanchez, molto forte, te lo lascio anche se è ancora la versione if, lo metterei di fianco a Kanté, che secondo me insieme fanno un'ottima accoppiata, con Sanchez che fa tutte e due le fasi, Kanté che difende meglio. Bruno ovviamente per adesso, tieni questa versione trequartista, poi cerca di apparlo, di cambiare genere di giocatore. Bamba e Martial che giocheranno sulle fasce, cosa so, Zaha è più forte di quel Martial, ma per l'intesa, per incominciare a impostare un percorso, che ti porti ad avere una squadra più competitiva, meglio puntare, incominciando a impostare il percorso, secondo me, e Rashford ovviamente come punta. Nel tempo punterai Kylian Mbappé per Martial, punterai a Cambiare Bruno, e incominciare a pensare che ti appare Bamba, o eventualmente di puntare Neymar, insomma, poi da lì ci incomincieremo a muovere. 20k così in game per Xbox, Donnarumma, Goses Puyol, Ansaldi che dira, Guardiola Gomez, Hernandez di Balamore e Ronaldo, ma così non va bene, perché Gomez è un trequartista, e non un centrocampista, e conseguenza in quel ruolo non può rendere, non ce la fa. Gosen di fianco Puyol, non va bene, perché sono troppo macchinosi insieme, nel senso, Gosen non è lentissimo, però di fianco Puyol, che è uno dei più lenti, per quanto fortissimo e superautomatico in fase difensiva, non può rendere a sufficienza. Quindi io lì inserirei un Dalot, già, che non è un costo incredibile, Dalot la verso ETS, quella con P difesa, la metti, la scambi con Teo, adesso mi ricordo se è la versione terzio destro, terzio sinistro, lo vediamo subito, comunque venderai lui, metterei magari un attimo qui, metterei Dalot appunto, la versione terzio sinistro, poi in game switch, ci metti Teo, terzio sinistro, e Diogo, difensore centrale di fianco Puyol, così è un po' più veloce la manovra difensiva. Che dira o meno un po' più circolare, peccato per quel Paolinho, che non viene utilizzato, e per quel Kylian, però magari ti diverti a giocare con la Serie A, e ci può stare tranquillamente. Qua, mi aspetterei di permetterti Rajan Engolan, e nel contempo dovresti anche levare il Papu Gomez, e mettere che si è, ovviamente non sono due cambi che puoi fare subito, sono due cambi che puoi fare con calma, intanto magari lascia che dira, e metti Paolinho in game, e magari io fossi in Teo a vendere ai Kylian, per cercare di sistemare un po' la rosa, visto che giochi così, mi sarebbe meglio avere che Siena Engolan. 50 pacchi per i Tots, uguale cash, di conseguenza sta aspettando per i Tots, non penso tu abbia molto da investire, o sia molto investibile, penso che tu voglia un parere generico sulla rosa. La difesa è valida, tranne Camara, la sicuramente serve un terzio sinistro differente, serve sicuramente avere un giocatore, che possa rendere come terzio sinistro, rispetto al meta, e rispetto, cioè Camara non è proprio così scarso, però rispetto al punto in cui siamo nel gioco, è benché superato. Lato invece di Todiboh e Kerrer, ottimi difensori centrali, se ti piace i difensori tutti e due di ruolo ci sta, se no si potrebbe puntare un terzino, da switchare col difensore, come si fa ormai dappertutto. Benzema a me non piace, io personalmente cercherei di avere un altro genere di punta, che potrebbe anche essere un'icona, o un Tots francese, perché uscirà sicuramente un Tots sbruccato francese, come al solito. Paulinho, molto valido, peccato sia poca intesa, però per il resto anche Pajé non mi fa impazzire, però visto che tu hai messo via i pacchi per i Tots, per i Kerrer, cioè, stai aspettando i Tots, ti direi, tieni un occhio su un terzino per Camara, un trequartista per Pajé, e una punta per Benzema. Anche Tomé non mi fa impazzire, ma cominciamo da questi. E poi valuta il terzino in difesa. No budget Xbox One, beh, se non hai budget è dura, anche perché vedo giocatori scambiabili come Varane, Lunin, Mangalabene, Klusersky, beh, è una bella squadra, non è male, peccato quel Barnes, è l'unico giocatore che effettivamente non mi piace, 200.000 crediti al costo, non l'hai segnato come non scambiabile, quindi ipotizzo, non lo sia. e se ti serve un esterno, sicuramente hai Klusersky e Bamba, ti serve comunque in realtà un trequartista, anche hai Palacio, Palacio non mi fa impazzire come punta singola, però si può fare. Se hai bisogno di un trequartista, prenderei Zola Baby appena possibile, apposta di Barnes, e sistemerei un attimino magari, poi più avanti l'intesa, se no potresti anche puntare Crespo, se hai bisogno invece una punta, e in alternativa potresti anche puntare Kylenbappe più avanti, però insomma il problema è l'intesa, un'altra considerazione che si può fare, è il mettere via i crediti puntando magari Cristiano Ronaldo, che ci permetterà di fare alcune ibridazioni interessanti, dipende un po' da che vuoi fare, oppure aspettiamo i tozza e vediamo cosa esce, però quello su cui devi concentrarti è cambiare Barnes, e sistemare l'intesa perché c'hai Sanchez e Palacio off-cam, che è un peccato. Secondo me potresti divertirti, oltre a quelli in panchina, Ruben Dias, Future Star non mi piace, Barnes, Future Star non mi piace tanto, ma non è malissimo, Regnier, buono, Cucurella, buona carta, Fertonali, Zaccarelli, Sanini, Diogodalo, Tettiernei. Ma io direi che le scelte che hai fatto ci stanno, e non mi hai parlato di un budget, quindi penso tu voglia consigliare il suo futuro, Sien, Sanchez ti dura anche fino a fine gioco, Diatta è rottissimo, Yedder e Riberino mi fanno impazzire assieme per esempio, cambierai qualcosa lì, non so con che modo lo giochi, dato che non l'hai segnato, suppongo 4-2-3-1, vedendo i giocatori, quindi giocherei con il CR7 davanti, e punterei a levare uno tra Ribery e Beyerder, puntando o un giocatore da inserire in fascia, e usare l'alto come tequartista, quindi quello che rimane tra Ribery e Beyerder, usarlo come tequartista, o un giocatore appunto da usare come tequartista, probabilmente punterei più una fascia, potrebbe essere un KK, un KK di qualche tipo, che vista l'esotticità, più che esotticità, e la particolarità, neanche più di tanti in realtà, di cazzo sto dicendo, beh comunque è una bella squadra, caccarlo, lo vedo bene qua, e poi apperai Teo alla versione 87-87, perché comunque si vede tanto in difesa la differenza, non so come fai a trovarti con Tomari Smalling in difesa, ci può stare, per il resto Bruno Persi non l'apprezzo, perché sale troppo, ma ho buone scelte, quello che punterei io. Bene, spero questi consigli vi siano stati utili, noi ci vediamo quindi domani in live, e mi raccomando, lasciatemi i vostri link delle squadre qua sotto, seguitemi su Instagram, e mandatemi le vostre squadre nei tag delle storie, passate dalla piattaforma viola, e abbonatevi per avere consigli, e noi ci vediamo nel prossimo video, bello a tutti. Grazie a tutti.